Siamo l'assolatore della cattedrale all'improvviso lo scocco delle ore Sono esattamente le 5 di pomeriggio Per il salire mi sta a fare un ticket di 2€ per fare centinaia di spadini di questo trip Però la vista è bellissima Si può mirare un po' da una matriciata di San Diego Grazie 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 Grazie